Un risultato che unito a quello ottenuto dall'Alessandria Calcio, da lustro a tutta la provincia, non poteva passare inosservato al presidente Gianfranco Baldi, che ha voluto, consegnando una targa ricordo, ringraziare a nome di tutto il territorio lo staff della Bertrand Ertona, neopromossa na uno di basket e che ora si appresta ad affrontare col massimo impegno, prima la Supercoppa, il 6 settembre a Trieste e in casa all'otto contro il Trento, e poi un campionato ambizioso, come confermano i massimi dirigenti. Grazie agli investimenti, alla passione della proprietà, della famiglia Gavi, abbiamo avuto l'opportunità di allestire un roster di buonissimo livello, siamo molto contenti della campagna acquistica che abbiamo appena concluso, abbiamo fatto una scelta di coniugare 5 elementi del roster che ci ha dato la grandissima soddisfazione della promozione in Serie A, integrato con 7 giocatori nuovi, quindi sicuramente la prima fase sarà quella più importante per conoscersi e per formare un nuovo gruppo. Il 16 la squadra partirà per Salice-Dulzio dove svolgerà la prima fase della preparazione, fino al 25, per poi rientrare a Tortona in vista del primo impegno ufficiale del 6 settembre in Supercoppa. Quest'anno ovviamente è un campionato di livello diverso, più alto, sarà molto più competitivo, dobbiamo capire questa nuova realtà, però penso che con grande lavoro, umiltà e magari anche un po' di fortuna, nei prossimi anni possiamo far bene. Noi vogliamo essere espressioni di tutto il territorio, della provincia di Alessandria, non solo di Tortona e anche, se mi permettete, del Piemonte, perché siamo l'unica squadra piemontese in Serie A e questo per noi è motivo di grande orgoglio. Il mercato è stato chiuso con un roster di 12 giocatori prestigiosi, 6 italiani e 6 stranieri, che saranno ancora guidati da coach Marco Rabondino.